Conosco i sistemi dei cifrari che vennero impiegati nelle guerre contro la Sardegna e la Savoia, nella campagna angofrancese di Sebastopoli, durante la rivolta dei boxeori in Cina e nell'ultima guerra russo-giapponese. Questi sistemi venivano trasmessi, ce ne importa un cavolo di tutto questo che ha detto Biegler, disse il capitano Sager, con un misto di disgusto e di risentimento. E' certo che il sistema di cui si è parlato e che ho spiegato loro è non soltanto uno dei migliori, ma possiamo dire uno di quelli più indecifrabili. Tutte le sezioni del contospioraggio, presso gli stati maggiori dei nostri avversari, possono benissimo prendersi una bella vacanza. Tanto, neppure facendo i salti mortali, riuscirebbero a decifrare i nostri codici. Si tratta di un sistema assolutamente originale. Questo codice non ha precursori. Il dirigente cadetto Biegler prese a tossire con aria significativa. Mi permetta, signor capitano, disse, di attirare la sua attenzione sul volume dedicato ai cifrali militari da Karikov. Questo libro può essere acquistato da chiunque presso la casa editrice del dizionario scientifico militare. In esso è particolarmente descritto, signor capitano, il metodo di cui lei ci ha parlato. Suo inventore fu il colonnello Kircher, che prestò servizio al tempo di Napoleone I, dell'esercito della Sassonia. Si chiamava Cifrario Kircher mediante parole, signor capitano. Ogni parola del dispiaccio viene interpretata sulla pagina opposta della chiave. Il metodo viene poi perfezionato dal tenente Fleissner nel libro Headbook der Militärischen Kriptografie, che ognuno può comprarsi presso la casa editrice dell'Accademia Militare a Wiener Neustadt. Prego, signor capitano. Il cadetto Birkler mise la mano in una valigetta e ne strasse il libro di cui parlava. Dopodiché proseguì. Fleissner cita il medesimo caso, la prego. Lei stesso può rendersene il conto. Il medesimo messaggio che abbiamo sentito da lei. Ed ora la prego. Guardi oltre. Guardi oltre. Codice. Il nostro problema è che guardiamo con ammirazione a coloro che hanno promesso a Marta e via così. Esattamente quello che abbiamo sentito da lei un minuto fa. Il discorso del cadetto non faceva una grinza. Quel presuntuosetto di ala di cicogna con coda di pesce aveva proprio ragione. Allo stato maggiore dell'armata qualcuno dei signori generali aveva trovato il modo di semplificarsi il lavoro. Aveva scoperto il libro di Fleissner sui cifrali militari e aveva così risolto il suo problema. Per tutto quel tempo si poteva notare che il tenente Lucas cercava di vincere una terribile irritazione. Si mordeva il labbro. Stava per dire qualcosa. Ma alla fine cominciò a parlare di una cosa completamente diversa da quella che aveva originariamente divisato. Non la si deve prendere così sul tragico, disse estremamente imbarazzato. Durante la nostra permanenza al campo di Brabrook su Laita sono stati già cambiati più volte i sistemi per trasmettere i messaggi in codice. Prima di arrivare al fronte ci daranno altri sistemi. Tuttavia penso che quando si è sul campo di battaglia non si abbia il tempo per risolvere simili crittogrammi. Prima che chiunque di noi abbia potuto risolvere una simile fra la recifrata, la compagnia e il battaglione e perfino la brigata potrebbero essere stati già spacciati. E' una cosa che non ha praticamente importanza. Il capitano Sager annui con la testa assai malvolentieri. In pratica, confermò, almeno per quel che ne so io, in base alle mie esperienze sul fronte serbo, nessuno aveva mai tempo per risolvere i messaggi cifrati. Non dico che tali messaggi non abbiano senso nel caso che si rimanga per parecchio tempo nelle trincee quando si fortifica e ci si mette ad aspettare. E' anche vero che i sistemi cifrati vengono mutati. Il capitano Sager si ritrovava, si ritirava su tutta la linea. Se oggi, nelle comunicazioni, dai comandi alle singole posizioni, i sistemi cifrati vengono adoperati sempre meno, in buona parte deve essere attribuito al fatto che i nostri telefoni da campo non sono precisi e non riproducono chiaramente, specialmente sotto il fuoco dell'artiglieria, le singole sillabe. Eppure, signor Oberleutnant, io glielo chiedi subito per telefono se voleva tutte e due le parti insieme e lei mi ha risposto proprio come mi ha detto adesso. Queste che cantine quell'io me le tenessi per me. perché ci sarebbe mancato anche questo, così mi disse, mettersi a perdere tempo con dei libri. Allora io ritenne, se questa era la sua opinione, che pure gli altri signori dovevano pensarla così. Su questo argomento interperrai anche il nostro Vanek. Quello lì ha già una certa esperienza del fronte. e lui mi confidò che dapprima ciascuno dei signori ufficiali pensava che la guerra fosse una fesseria qualsiasi e così si portava in prima linea tutta una biblioteca come se si fosse trattato di andare ad una vacanza. Dalle arciduchesse ricevevano perfino in dono gli scritti completi di alcuni poeti mentre stavano al fronte così che gli attendenti facevano una grande fatica a trasportarli e maledicevano il giorno della loro nascita. Diceva pure Vanek che quei libri non servivano assolutamente a niente per quanto riguardava il fumare perché avevano una carta molto bella, spessa e chi ha le latrine con simili poesie ci si scorticava col permesso parlando signor Oberloytnant tutto il sedere. Per le lettere non c'era tempo perché si doveva continuamente scappare e così si rimanevano sempre e così si rimandavano sempre. Può essere ormai diffusa questa abitudine che appena si sentiva il primo canoneggiamento l'attendente buttava via immediatamente tutti i libri ricreativi. Dopo quello che mi aveva detto Vanek voglio sentire anche la sua opinione signor Oberloytnant e quando per telefono le chiesi cosa dovevo fare con quei libri lei mi disse che una volta che mi era entrata nella mia stupida zucca una cosa non la piantavo finché non ricevevo un ceffone sul muso. Pertanto, signor Oberloytnant ho portato alla Batalonskanzai soltanto le prime parti di quei romanzi mentre la seconda parte per il momento l'ho lasciata nella nostra compagni-kandai. mi era infine venuto questo bel proposito di lasciare che i signori ufficiali si leggessero la prima parte e poi consegnare loro la seconda come se si trattasse di una biblioteca ma ecco che tutto a un tratto è arrivato l'ordine di partire ragion per cui tutte le cose superfue dovevano essere consegnate al regime del magazine. Pertanto, interpellai ancora una volta il signor Vanek chiedendogli se ritenesse che la seconda parte dei romanzi era una cosa superflua e lui mi ha detto che dopo quella sconfortante esperienza fatta in Serbia, in Gallizia, in Ungheria i libri ricreativi al fronte non si portavano più mentre quelle cassette che si trovano nella città dove si mettono i giornali vecchi per i soldati quelle sì che sono le uniche cose utili perché nei giornali ci si può impaccare bene il tabacco oppure il fieno che i soldati fumano nei ricoveri al battaglione hanno già distribuito le prime parti di quel romanzo e le seconde parti le abbiamo mandate al magazzino e grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti